Il vero senso di responsabilità è da ascrivere esclusivamente alla maggioranza che ha votato favorevolmente il bilancio di previsione nonostante il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti. È il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio Comunale di Ribera, Giovanni Di Caro, a replicare oggi alle accuse mosse ieri dall'opposizione a proposito della seduta consigliare di lunedì scorso. Votando favorevolmente il bilancio, nonostante il parere negativo dei Revisori, scrive Di Caro, è stata tutta la maggioranza ad assumersi le responsabilità di una scelta non facile, figlia dei disastri amministrativi e contabili ricevuti in eredità dalla precedente amministrazione, ma nell'ottica di voler comunque fare quanto oggi necessario per evitare la paralisi amministrativa. Lo stesso purtroppo non può dirsi, prosegue nella nota il capogruppo di Fratelli d'Italia, per i consiglieri di opposizione i quali hanno salomonicamente deciso di non assumersi alcuna responsabilità astenendosi dal voto e non può certamente passare l'idea che ad esempio si potranno pagare gli stipendi agli operatori ecologici di Ribera Ambiente grazie al fatto che non siano stati presentati emendamenti da parte della minoranza. La maggioranza, prosegue Giovanni Di Caro, avrebbe favorevolmente accolto le eventuali modifiche proposte dall'opposizione purché costruttive e tendenti ad un effettivo miglioramento del documento da approvare. Il sospetto piuttosto è invece che la scelta dell'opposizione di non proporre emendamenti sia stata una scusa per non assumersi alcuna responsabilità poiché una volta accolti gli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri della minoranza questi sarebbero stati poi costretti a votare anch'essi il bilancio di previsione cosa che evidentemente hanno voluto evitare. In realtà conclude il consigliere di Fratelli d'Italia se gli stipendi verranno pagati come giusto che sia agli operatori di ribera ambiente e se oltre a questo si potranno utilizzare le somme previste nel bilancio da parte dell'amministrazione per tanti altri interventi da effettuare come quelli sull'illuminazione pubblica per circa 200 mila euro, quelli per il ripristino del manto stradale della viabilità urbana o quelli sulla viabilità rurale, tutto ciò è merito esclusivo della maggioranza ed è possibile solo grazie alla determinazione dei consiglieri che hanno votato favorevolmente il bilancio di previsione.